si chiama chat yourself il primo programma di intelligenza artificiale che si può scaricare sul proprio telefono cellulare e che è in grado di strutturare una conversazione con l'utente per i malati di alzheimer nelle prime fasi della malattia chat yourself è in grado di memorizzare tutte le informazioni relative alla vita di una persona restituendo le sue richieste all'utente il programma è disponibile e accessibile a tutti gratuitamente sulla pagina facebook di chat yourself chat yourself attraverso facebook facebook messenger è un ausilio avere e a mantenere la vita di tutti i giorni il più possibile da ricordarti quando prendere le medicine quali prendere a darti i numeri di telefono della famiglia o di un amico nei momenti di emergenza a riportarti a casa utilizzando le mappe e prendendoti per mano dicendo 50 metri avanti svolta a destra svolta a sinistra e questo è il tuo domicilio ti riporto a casa tutte cose che possono essere facilmente perse nelle fasi iniziali della malattia in questo modo invece vengono mantenute mantenendo anche la dignità della vita siamo inseriti nella vita moderna questi sono strumenti che bisogna piegare le nostre necessità questo è un piccolo aiuto per un paziente in fase lieve ovviamente ed è una rassicurazione per il familiare in un momento di grande crisi del nucleo familiare perché sicuramente una diagnosi di alzheimer è come come una bomba che scoppia all'interno di un nucleo familiare la diagnosi precoce delle varie forme di demenza tra cui l'alzheimer è oggi un obbligo perché ci permette di identificare precocemente prima che i danni siano irreparabili quali sono i fattori di rischio di quel singolo paziente e quali sono i suoi eventi e rinforzare i suoi fattori di protezione quindi intervenire con tutti gli interventi oggi possibili e anche in futuro con eventuali farmaci nelle fasi precocissime della malattia quando le riserve del cervello e la plasticia del cervello sono ancora presenti